Sì, abbiamo le campi di giocatori, scambio di giocatori, e l'ordine di giocatori non lo sento, 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 non lo sento. Va bene, andando rapidi, stiamo a portare, però non lo sento. Non lo sento, non lo sento. Non lo sento, non lo sento. Non lo sento, 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 non lo sento. Non lo sento, 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 non lo sento. Non lo sento, 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 non lo sento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.